Cambiamento come sinonimo di evoluzione. Dopo 160 anni, Italcementi cambia nome. Si parte dal nuovo brand Heidelberg Materials, nome del gruppo di cui Italcementi è parte dal 2016 e con il quale l'azienda si apre ad un processo rivoluzionario nella direzione della sostenibilità. Decarbonizzazione e digitalizzazione, le parole chiave di una nuova visione di industria al passo con i tempi, nella quale è pienamente coinvolta la cementeria di Matera, una realtà, quella materana, composta da un centinaio di dipendenti che negli anni ha già dimostrato di saper leggere i cambiamenti. Un esempio è la certificazione CSE ottenuta nel 2022, lo schema del Concrete Sustainability Council che riconosce il processo di approvvigionamento responsabile su tutta la filiera di produzione secondo i principi base della sostenibilità e nel rispetto di cinque categorie di crediti pre-requisiti, gestione, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un ribranding aziendale che accoglie le sfide con entusiasmo e responsabilità verso le future generazioni. Io dico sempre il cambiamento non deve mai spaventare perché il cambiamento è l'unica fonte di sopravvivenza, l'unica fonte di reale sostenibilità in tutti i sensi della vita. Lo dico sempre ai ragazzi che vengono a noi, ai giovani, agli studenti, a tutti coloro che guardano al cambiamento con timore, con terrore, a volte vedo proprio negli occhi questa paura. Il cambiamento invece è una grande opportunità, è una grande opportunità di avere nuove sfide, nuovi stimoli, nuove opportunità, per cui no, noi lo guardiamo con grande apertura perché sappiamo che è un cambiamento reale basato su delle fondamenta reali, non è un tuffo nel vuoto, è un cambiamento che ci porta nella direzione veramente della costruzione di una società che è pronta per il futuro, una società che durerà a lungo nel futuro.